Salve a tutti amici, bentornati su Pausa Caffè. Partiamo subito con la news, ma potrete lasciare un bel like qui sotto per aiutare semplicemente il canale. Potrete commentare tutte le notizie qui sotto, proprio nella sezione commenti. Non si sta più nella pelle in attesa dell'ingresso in studio della splendida modella e conduttrice argentina nel salotto televisivo di Mara Venier. La separazione da Stefano De Martino, tante indiscrezioni, rivelazioni sulle sue condizioni di salute, un dimagrimento drastico e anche un nuovo amore, nella vita di Belen gli scenari da affrontare sono tantissimi. Mara Venier e Belen Rodriguez insieme davanti alle telecamere del programma, cosa di più entusiasmante dopo tanti mesi di assenza dal piccolo schermo. E non è da escludere che la modella Esho Girl possa rivelare qualche dettaglio in più sulla fine del matrimonio con Stefano De Martino. Ma non solo, anche il periodo trascorso nella clinica privata a Padova e non ultimo il nuovo amore per Elio Lorenzoni. Per annunciare la grande ospite di domenica in ci ha pensato Mara Veniera a pubblicare un'anticipazione. La foto insieme a Belen Rodriguez che si rivolge alla camera con un'espressione buffa rientrerà nella storia del programma, a domani belli. L'annuncio della coppia di amiche ha sicuramente riscosso il successo sperato, meritando tante visualizzazioni, cascate di cuore e laica a profusione. E a proposito di Belen, chissà se con si amara la modella chiarirà o meno la vicenda dell'anello scomparso dal dito. Come ormai è noto, nel corso di una vacanza romantica, la modella avrebbe mostrato a tutti l'anello regalatole da Elio Lorenzoni. Una proposta di matrimonio? La modella ha mostrato la foto con un bel silo in primo piano. Ma adesso, l'anello è svanito nel nulla. Mistero! Il video finisce qui, ma se sei interessato alle news puoi iscriverti al canale e attivare la campanella per non perderti i nuovi video.